Anche nella settimana tra il 26 agosto e il 1 settembre la Sardegna per nuovi casi di coronavirus ogni 100.000 abitanti è stata al primo posto tra le regioni italiane con 23,42, il numero più alto d'Italia. L'isola precede in questa classifica Emilia Romagna, Campania, Liguria e Lazio, un dato che comunque va bilanciato tenendo a conto del gran numero di turisti che nei giorni presi in considerazione hanno affollato l'isola. E' quanto emerge da una nuova ricerca della Fondazione Gimbe. In assoluto il numero di nuovi casi rispetto a quelli registrati la settimana precedente si ferma a 37, numero che colloca la Sardegna al dodicesimo posto in Italia. Dei 26.754 casi attivi al 1 settembre il 50,2% si concentra in tre regioni, Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Un ulteriore 41,9% si distribuisce tra Veneto, Campania, Toscana, Piemonte, Sicilia, Puglia, Sardegna e Liguria. Nell'ultima settimana, sottolinea il Presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellota, con riferimento al quadro nazionale, continua l'ascesa del numero di nuovi casi e delle persone attualmente positive. Conseguente sia l'incremento dei casi testati sia il costante aumento del rapporto positivi casi testati. Inoltre si consolida il trend in aumento delle ospedalizzazioni con sintomi e si impenna quello dei pazienti in terapia intensiva. Si tratta di segnali, sottolinea Carta Bellota, che vanno tutti nella direzione di una ripresa dell'epidemia nel nostro Paese, sia in termini epidemiologici che di manifestazioni cliniche, proprio alla vigilia del momento cruciale della riapertura delle scuole. Intanto sono tutti negativi i mille tamponi effettuati in questi giorni tra il personale delle strutture alberghiere della Costa Smeralda. Inoltre non si registrano contagi nemmeno tra medici, infermieri e pazienti del Materorbia. Zero positivi, non esiste quindi un caso a Costa Smeralda, ha sottolineato Marcello Acciaro, coordinatore dell'unità di crisi dal nord Sardegna.